Si avvicina il Natale e con il Natale si intensificano gli investimenti pubblicitari non tutti gli spot però riescono allo stesso modo La clip emozionale di Allegro, portale di iCommerce è particolarmente riuscita per apprezzarla nella sua tenerezza va vista per intero non mancherà di strappare sorrisi e forse anche una lacrimuccia Robert I am You are perfect Hi, thank you Suitcase, slippers, toothbrush, passport, pyjamas Be good dog Hi, I am Hi, I am Passport, passengers on flight Paralineas, Argentina Hi, I am your grandpa Allora, a I am